ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video oggi apriremo insieme queste due blind delle falabella che sono quelle che mi ha mandato alicraft nel suo ultimo pacco come sapete erano già aperte ma siccome le ha sigillate io non so cosa troverò dentro così le andremo a vedere insieme sono adorabili e niente andiamo ad aprire il primo pacchetto sono curioso non ho mai aperto le falabella c'è sicura che sta litigando con una mosca cercatelo ok il prezzo era di 2,50 e adesso andiamo a vedere ingerci sempre ali per questi meravigliosi regali che mi fa guardate che bello il mio cavallino non ho mai aperto le falabelle non so cosa che carine sapete io avevo due capette erano così piccole guardate qui c'è tutta la checklist ma qua ci sono le giochine che carine belle magari questi li taglierò e ci faccio degli sticker perché sono bellissimi qui ci insegno a fare degli origami andiamo a vedere il piccolo pony oh mio dio non li avevo mai aperte sono bellissimi sono bellissimi e lui è lei e marina mamma mia guardate che meraviglia sono tutti floccati tranne la corona e la la criniera l'occhio è stupendo guardate che meraviglia qui però un pochettino ok l'ho tolto è stupendo fatto benissimo la floccatura è morbidissima che carino andiamo a vedere il secondo qual è forse non ci sarà bisogno dell'acqua sempre 250 sempre il il librizzino cos'è questo ah sì sì alcune falabelle erano nella doppia bustina no ma questo è bellissimo guardate che meraviglia con la nota musicale sul culetto bellissimo con la criniera tutta verde quasi quasi sembrano delle piante e wood wood si chiama punto si nome wood mantello arancione criniera e coda verdi caratteristiche molto saggia al femmina il suo simbolo il sole vediamo marina perché non l'ho letto nome marina mantello verde coda gialle coda e criniera gialle scusa caratteristiche ama nuotare ed esplorare gli abissi si trasforma in onda il suo simbolo sono le onde infatti che ce l'ha sempre sul culetto ok queste sono le due falabelle che ho trovato e che mi ha mandato Alice lei già sapeva cosa mi ha mandato ma io non le avevo viste queste le posso dire che sono meravigliose sono entrambe floccate mi ero dimenticata questa cosa sembrano delle foglioline guardate che meraviglia comunque io non mi aspettavo che fossero così belle le falabella spero che siano piaciute anche a voi e noi ci rivediamo nel prossimo video grazie Ali per questo splendido regalo un bacione ciao